Ben trovati e ben trovate dal vostro Andrea Cartotto, un videocorso nuovissimo con effetto matrioska. Andrea ma cosa vorrai mai dire? Mi chiederete? Beh lo scopriamo subito. Sono qui oggi, chi di voi mi conosce e mi segue con stima lo sa, nella veste di official trainer per l'Italia di PanQuiz, davvero la più significativa applicazione per quiz e questionari ideata e pensata da Paolo Mugnaini per la scuola italiana. Ebbene, riconoscerete, provatela se non la riconoscete, la schermata principale di PanQuiz, sito di riferimento app.panquiz.com. Dopo aver effettuato la prima registrazione o nei successivi accessi, da oggi è possibile formarsi all'uso di PanQuiz direttamente dal sito ufficiale. Ebbene sì, guardate, se clicchiamo in alto a destra sull'icona forma di tocco accademico, il famoso cappellino universitario, ecco tutti i miei videocorsi ufficiali di PanQuiz caricati direttamente all'interno di PanQuiz. Un cartotto dentro un cartotto. Ora capite per cui ho iniziato parlandovi di effetto matriosca, battuta che condivido con il buon Paolo. Ebbene sì, i videocorsi più recenti su funzionalità più recenti saranno contrassegnati dalla etichetta nuovo, basti pensare all'introduzione dell'intelligenza artificiale in PanQuiz per far creare a Mr. PanQuiz questionari di assoluto livello, addirittura graduati per livello di difficoltà per i nostri alunni ed alunne. Davvero da non perdere. Scorrendo, oltre ai miei videocorsi ufficiali, vi mostro che naturalmente ci sono pillole o alcune funzioni che ha il piacere di raccontare in sintesi direttamente il papà di PanQuiz, quindi il buon Paolo. Ebbene avete la possibilità di variare da una etichetta all'altra. Sostanzialmente al mare, in montagna, in altre occasioni magari di relax, è possibile concedersi un pochino di tempo per prendere in considerazione queste pillole che vi permetteranno davvero di portare in classe dal primo giorno, sempre con la mediazione del docente, un linguaggio e uno strumento assolutamente contemporaneo per i nostri ragazzi e ragazze. E tu? Proprio tu che mi stai guardando, op, ecco il primo piano, hai provato PanQuiz con la tua classe, con i colleghi, magari per effettuare anche un monitoraggio all'interno di un plesso di un istituto? Può essere l'occasione davvero di cominciare o di mantenere l'utilizzo di questa app che al momento davvero sta incidendo positivamente sulla scuola italiana. Vi do appuntamento sin d'ora al mio prossimo videocorso e buon PanQuiz a tutti!